Magnifico Rettore, grazie dell'accoglienza in questo luogo così prestigioso, una università che risale al 1500, la prima università dei gesuiti, mi raccontava il Magnifico Rettore, dunque un luogo di particolare rilievo religioso, ma soprattutto di scommessa sul capitale umano, sull'educazione. Ed è con un qualche elemento di attenzione che ci avviciniamo in una università nella quale ci ha studiato qualche premio Nobel e non soltanto. E dunque innanzitutto a lei rivolgo il saluto grato dell'amministrazione del Governo, anche a nome del sottosegretario De Vincenti, del sottosegretario Faraone e delle altre personalità del Governo che sono qui presenti. Grazie per quello che fate, grazie per il suo riferimento alla missione educativa, grazie per l'impegno fondamentale a far sì che dalla riscoperta della centralità del capitale umano passi la valorizzazione non soltanto del Mezzogiorno ma più in generale dell'Italia. Un saluto al signor sindaco della città metropolitana di Messina, un saluto al presidente della regione, oltre che al prefetto, alle autorità civili, militari e religiose. E' un saluto particolare davvero affettuoso ai sindaci, mi verrebbe voglia di dire ai colleghi sindaci, anche se io non lo sono più, ma se me l'abbas sempre l'abbas. E quindi da questo punto di vista una volta che uno ha indossato la fascia tricolore comunque la tiene nel cuore. Lo dico pensando in particolar modo ai sindaci delle piccole comunità, poi in un territorio come Messina che comprende alcuni luoghi di straordinaria bellezza e anche qualche luogo di particolare difficoltà. L'impegno di tutti e di ciascuno per il bene comune è particolarmente rilevante, indipendentemente ovviamente dal colore politico. Quando si è sindaci si servono tre colori, il verde, il bianco e il rosso, che sono i colori del nostro paese, della nostra patria. E credo che da questo punto di vista in particolar modo i sindaci dei comuni più piccoli sappiano bene quanta fatica si fa. Si dice che i sindaci sono i primi cittadini, i sindaci sono gli ultimi cittadini, quelli che per prima e per più di tutti gli altri sono chiamati a affrontare le difficoltà del proprio territorio. Una delle cose più belle che mi è stata detta da un cittadino appena eletto, appena eletto sindaco, fu esattamente questa. Ricordati che sei quello che la sera deve spengere la luce. Fortunatamente non è così, siamo arrivati al sistema qualche decennio fa forse era così. Ma è molto bella l'immagine, è un po' come un padre che torna a casa la sera e quante volte, sua la madre, quante volte dopo le riunioni si torna a casa la sera e si va a controllare se i figli hanno lasciato la luce sul comodino accesa, magari si rimboccano le coperte. Nel sistemarli uno c'è anche qualche pensiero, qualche sentimento di colpa per aver sottratto del tempo alla famiglia. Ma se ci pensate per una amministrazione comunale vale lo stesso principio che vale per una famiglia. Noi quando parliamo di bene pubblico e di servizio comune parliamo essenzialmente di tutto ciò. Dunque grazie per il vostro lavoro. Noi siamo alla firma di un importante accordo. Il sindaco della città metropolitana ha illustrato il lavoro che ha svolto assieme in particolar modo al sottosegretario De Vincenti, a entrambi la mia gratitudine. Ed è un lavoro che porta nelle casse di questo territorio circa 778 milioni. Così perlomeno mi sembra di aver letto, non vorrei sbagliare, 778 milioni di euro. In parte relative al fondo di sviluppo e coesione, in parte relative ad altre fonti di finanziamento. Ma sono denari che sono orientati e organizzati da subito in modo chiaro. Questa è una diversità rispetto al passato. La diversità è che noi ci mettiamo d'accordo dove vanno i soldi. I sindaci controllano lo Stato, lo Stato controlla i sindaci, i cittadini controllano entrambi. Perché se c'è una cosa di cui dobbiamo vergognarci è che negli anni passati l'Italia abbia buttato via delle risorse. Non soltanto le risorse buttate via per l'illegalità e la corruzione, ma anche le risorse buttate via perché fondi europei sono stati spesi male o rendi contati peggio. A me è capitato di sentire una signora di dire che tanto erano fondi europei. Ma quali fondi europei? Quelli sono fondi che l'Italia dà all'Europa e che l'Europa ci restituisce meno i soldi che si tiene da parte. L'Italia è un contribuente netto dell'Unione Europea. E' quello che io cerco di dire quando vado a Bruxelles e in qualche misura cerco di far sentire la voce del nostro Paese. Noi non è che siamo in Europa come quelli che devono essere controllati, redarguiti, in qualche modo seguiti a vista. Noi siamo quelli che danno ogni anno 20 miliardi di euro e ne ricevono 12. Perché fedeli all'ideale europeo pensiamo che sia un valore costruire una grande casa comune nella quale si possa tutti fare un pezzettino. E dunque se dobbiamo essere contribuenti attivi lo siamo. Ma se noi sui fondi europei non stiamo attenti e non gestiamo bene le partite e magari arriviamo al paradosso di doverli restituire all'Europa che li dà l'agricoltore polacco o all'imprenditore slovacco, vi rendete conto che stiamo facendo un danno che è superiore. C'è oltre al danno c'è la beffa. Ecco che la chiarezza dei ruoli è elemento imprescindibile per affrontare e scrivere una pagina nuova. Non è un problema di idee politiche, di posizioni. Ciascuno si tiene le proprie idee politiche. Evviva Dio, siamo una democrazia. Ma quando si tratta di spendere i soldi di tutti, ci mettiamo d'accordo su dove vanno questi soldi, sulla tempistica di questi soldi, i cittadini controllano. Poi a uno può piacere o meno il progetto che il singolo sindaco ha messo dentro. Ma quel sindaco è stato votato dalla sua gente. E quindi merita il rispetto da parte di tutti noi. Questo è un passaggio cruciale, chiave, del metodo di lavoro che abbiamo scelto. Ringrazio il Presidente della Regione per aver voluto condividere con noi questo stesso metodo a livello regionale. Abbiamo firmato assieme a lui il patto, come ricordava il sindaco ad Agrigento, nella Valle dei Templi, uno dei bellissimi luoghi di questa regione. Ma il meccanismo è il seguente. Questi 778 milioni voi potete controllare e capire dove vanno, come vanno e in che tempi vanno. E' finita la stagione in cui non si sapeva bene quali erano le procedure per le regole europee. Bisognava sempre fare la coda, la fila di fronte al capo di gabinetto della struttura tecnica che poi andava a Roma e che con un gioco di carte spostava da una parte e dall'altra. C'è un patto firmato dal Governo con la città, la città metropolitana con la Regione e questo patto siglato dice che i soldi vanno qui e vanno là. E' un fatto di responsabilità. Capite che è un cambio totale. Ma naturalmente c'è un elemento che per il futuro noi dobbiamo comunque cambiare. Perché? Perché questi soldi di cui stiamo discutendo sono i soldi che vanno nella programmazione europea 2014-2020, il bilancio europeo 2014-2020, il bilancio in cui noi mettiamo 20 miliardi e riprendiamo 12 miliardi. Perché naturalmente siamo tutti contenti di essere contribuenti attivi e contributori attivi, però mettere 20 miliardi e ricevere 12 miliardi. E poi quando si tratta di accogliere gli immigrati ci sentiamo dire da quei Paesi a cui stiamo pagando i bilanci che dobbiamo fare da soli perché loro non sono interessati alla solidarietà pure prevista nei trattati europei, capite che se io alzo la voce ai Consigli europei non lo faccio per una qualche visibilità in Italia. Lo faccio perché è un fatto di dignità del nostro Paese che indipendentemente dal colore politico tutti dobbiamo difendere. Io vi sono grato, signori sindaci, per la straordinaria accoglienza. E la gratitudine non basta. Tant'è vero che il decreto legge che il Presidente della Repubblica ha già firmato e che sarà in gazzetta ufficiale nelle prossime ore, prevede per quei sindaci, molti di voi sono in prima linea, che si sono sobbarcati il peso dell'accoglienza più degli altri, un contributo straordinario sul 2016 in attesa che sul 2017 si possa affrontare un metodo diverso dall'attuale. Ho letto qualche polemica di qualche statista in camicia verde che ha sostenuto dall'alto delle proprie terre che non è giusto che si diano più soldi ai sindaci che hanno accolto rispetto ai sindaci che non hanno accolto. Ma io trovo che sia un principio di serietà e soprattutto un principio di giustizia e di solidarietà interna quello di riconoscere a chi ha accolto di più un'attenzione maggiore da parte dello Stato e sono fiero e orgoglioso che questo decreto legge sia stato firmato. Ma mentre dico questo, dico anche che tutta questa misura non basta, non è sufficiente, c'è bisogno di cambiare le regole. L'ho detto anche all'ultimo Consiglio europeo, penso di averlo detto a nome di tutti, sinistra, destra, sopra, sotto, movimenti, partiti, che la discussione che partirà nel 2017 sul bilancio 2020-2026 vedrà l'Italia essere molto chiara su un punto. O ci sono uguali doveri per tutti, o non si pensi di arrivare allo stesso meccanismo economico che abbiamo avuto in questi anni. L'Italia non accetterà una ripartizione dei fondi europei come quella che è stata accettata dai governi precedenti che ha visto finanziare quei paesi che poi hanno chiuso le porte e hanno alzato i muri. L'Europa non si fa costruendo i muri, l'Europa si fa creando le condizioni di dialogo e di ascolto. E siccome molti di quei paesi, in particolar modo i paesi dell'est Europa, sono stati salvati da una situazione di difficoltà, disagio, arretratezza infrastrutturale e economica dai fondi che l'Italia e gli altri hanno messo, si sappia con molta decisione che noi non saremo assolutamente disponibili a nessuna mediazione, alla meno che non sia quella che parta dal principio del riconoscimento dei diritti. Ho fatto questa lunga introduzione perché credo che stiamo attraversando una fase fondamentale e che riguarda anche il vostro territorio, sul quale mi accingo a spendere le due parole conclusive. Ma il punto fondamentale è che se la Sicilia si sta caricando in modo straordinario e con un principio di umanità di cui tutti vi siamo grati, di una emergenza inedita, è altrettanto vero che l'Italia non può fare finta di niente e che l'Europa non può girare la testa dall'altra parte. Finché io sono Presidente del Consiglio, non posso accettare che vi sia questo atteggiamento di doppio peso e di sostanziale, facciatemi lo dire con una parola forte, ipocrisia. Ipocrisia quasi biblica, vorrei dire a sua eccellenza. Ipocrisia nel senso di atteggiamento realmente da sepolcri imbiancati come quello che alcune realtà del nostro continente hanno avuto e stanno avendo. Naturalmente il 2017 sarà un anno molto importante per la provincia di Messina anche per un altro motivo. Veniamo con il signor Sindaco di Taormina da un sopralluogo in questa città straordinaria che accoglierà, vorrei dire a nome di tutto il Paese, ma direi a nome di tutta la Sicilia, se il Presidente Crocetta me lo consente, i grandi, si fa per dire, perché poi nessuno di noi è grande, i leader di Stato e di Governo dei sette Paesi più importanti, il G7. Si tratta di un appuntamento già messo in agenda tra il 26 e il 27 maggio del 2017, è l'appuntamento di turno che tocca all'Italia, un appuntamento che era originariamente previsto a Firenze. abbiamo scelto di spostarlo a Taormina, in Sicilia, quando qualche malevolo pensiero è uscito dalla bocca di alcuni dei protagonisti internazionali che hanno avuto il coraggio di dire beh, la Sicilia è terra di mafia. Sì, certo, la Sicilia ha pagato un tributo altissimo alla mafia con le grandi figure dei giudici, dei carabinieri, dei finanzieri, dei poliziotti, delle donne, degli uomini dell'esercito, delle prefetture, cittadini normali, commercianti che si sono rifiutati di pagare il pizzo. Sì, la Sicilia ha sicuramente pagato un prezzo altissimo alla mafia. Ma la Sicilia, ho spiegato in particolar modo a una persona che aveva insistito sull'equiparazione questa regione uguale mafia, è anche la terra che da secoli, da lezioni di civiltà, filosofica, culturale, teatrale, educativa, matematica, scientifica, letteraria, e che è una terra che rappresenta un crogiuolo di tradizioni diverse e straordinarie, esattamente ciò che serve in questa stagione del nostro tempo, una forte identità ma con l'apertura al mondo, dove l'altro viene accolto per quello che è senza che tu rinunci a ciò che sei. Per questi motivi abbiamo scelto, e sono grato al Sindaco e a tutto il territorio per aver accolto i disagi che ci saranno, lo dico perché oggi la prima cosa che mi è stata chiesta è ma che come andrà, ci saranno ovviamente dei disagi, ci saranno delle questioni complicate da gestire, ma sarà un grandissimo appuntamento che porterà la provincia di Messina, Taormina, la Sicilia, in tutto il mondo come un luogo che tiene insieme lo splendore di quel teatro, che dialoga con l'Etna e col mare in un rapporto di bellezza che avrebbe detto il poeta, salverà il mondo, la bellezza che renderà a ciascuno di noi la possibilità di vivere in modo più forte e più bello la propria identità. Signor Rettore, sarebbe molto bello per noi se l'Università degli Studi di Messina, come università più presente sul territorio, ci potesse aiutare nelle forme e nelle modalità che riterrete opportuno, anche nella costruzione di occasioni di incontro, approfondimento sui temi che noi immaginiamo centrali del G7, perché pensiamo che sia cruciale l'aspetto educativo e culturale e accademico. Insomma, noi non usciamo dalla crisi economica e valoriale semplicemente mettendo insieme tre algoritmi. Nell'epoca dei big data quello che serve è innanzitutto una grande scommessa culturale, ideale, valoriale. L'Italia non avrà nel proprio PIL, nel proprio GDP, l'elenco delle proprie associazioni o dei 4 milioni virgola 9 di volontari, ma questo patrimonio è un patrimonio che nessuno ci può togliere ed è un patrimonio che, pur essendo immateriale, è ciò che ci costituisce come elemento qualificante del mondo che cambia. Dunque sarà bello poter lavorare insieme nel percorso che ci porterà al maggio del 2017 non soltanto dal punto di vista organizzativo e avremo molte cose da fare, ma anche dal punto di vista culturale, educativo, di riflessione. Insomma, noi vi sfidiamo su questo. Naturalmente tutto questo ragionamento non può portare, e davvero arrivo su Messina, a non sottolineare i tanti argomenti di merito che sono previsti in questo patto che andiamo a firmare con l'obiettivo principale quello di intervenire su alcune infrastrutture, lo svincolo fostadale giostra annunziata, per 95 milioni di euro, la piattaforma logistica intermodale tra i mestieri con l'annesso scalo portuale per 72 milioni, il Consorzio Autostrade Siciliane con opere di manutenzione quanto mai necessarie per evitare di saltellare sulle nostre strade che talvolta assomigliano più a campi da golf che non a strutture vere e proprie, sono sia quella del Consorzio Autostrade Siciliane per 45 milioni che per le strade provinciali per 22 milioni. C'è poi la strada Scorrimento Veloce, Patti, San Pietro Patti, il terzo lotto per 17 milioni. Vi è poi un elemento al quale io tengo per caratteristiche personali moltissimo, che è quello dell'acquedotto Fiumefreddo con la messa in sicurezza dell'infrastruttura strategica per un totale di circa 6 milioni. Sull'ambiente ci sono quasi 50 milioni per la mitigazione del rischio sisma e sismico e idrologico. Ne approfitto, mi perdonerete, per fare anche una minima pubblicità a progresso alla legge di bilancio appena annunciata, appena approvata, che prevede la misura del 65% per il bonus energetico e sismico, non soltanto per le case ma anche per i condomini e per gli alberghi. Particomodo quelle realtà dove i sindaci interessati al turismo vorrei che si facesse un'opera di persuasione nei confronti degli albergatori quindi c'è un bonus importante del 65% di sconto per chi fa interventi sul riqualificazione dal punto di vista energetico e sismico ma diventa anche l'occasione per avere un turismo che abbia delle strutture di maggiore qualità e tutti noi sappiamo quanto questo sia fondamentale per attrarre turismo. Io sono uno di quelli che continua a essere sorpreso dai numeri devastanti del turismo in questa regione cioè continuano a crescere ma l'idea che altre regioni meno belle di queste abbiano 4 volte 5 volte il numero dei nostri turisti mi indigna perché noi abbiamo bisogno di vivere questa terra molto di più e con molta maggiore determinazione peraltro anche il G7 stesso sarà una grande occasione di brand perché sarà importante per Taormina ma avremo anche una comunicazione ad hoc sulla Sicilia non soltanto sulla città di Taormina e poi il Palazzo di Giustizia al porto turistico a Santo Stefano di Camastra gli interventi per la riqualificazione nelle aree che il signor Sindaco ha individuato nelle 4 aree su cui il procedimento democratico dei 332 milioni si è sviluppato insomma c'è un lavoro molto serio rigoroso puntuale che cambia il rapporto Stato-Governo noi siamo noi siamo qui per dire controllate come noi vi seguiamo ma anche per dire vi controlliamo insieme e ai cittadini chiediamo di svolgere un ruolo attivo dunque signor Sindaco signori Sindaci è con grande gioia che firmiamo questo importante patto credo che un anno fa quando siamo partiti in questo lavoro Claudio De Vincenti ha svolto davvero un lavoro straordinario e molti storcevano il naso ma cosa sarà il patto l'ennesima operazione mediatica invece adesso possiamo dire di aver concluso quasi con tutti beh no forse in settimana firmiamo anche Napoli per cui abbiamo chiuso praticamente con tutte le realtà del mezzogiorno i patti anzi mi fa molto piacere che il Sindaco di Milano sia stato il primo dei sindaci del Nord a dire sì scusate però io avrò meno soldi però voglio anche io un patto di questo genere perché voglio che insieme ci impegniamo abbiamo firmato anche con il Sindaco di Milano un patto in cui i soldi che lui ha dallo Stato vengono tra virgolette rendicontate di fronte all'opinione pubblica sulla base di progetti condivisi fondamentale che tutte le strutture culturali ed educative a partire dall'Università degli Studi ci aiutino in questo percorso perché e ho finito davvero io penso che noi viviamo in una stagione sicuramente difficile ma in una stagione che è meravigliosa per il nostro paese il nostro paese ha tutto per essere un luminoso punto di riferimento in Europa e nel mondo e chi non si rende conto che in un tempo come questo di globalizzazione spinta e interconnessione c'è uno spazio in più per l'Italia non in meno sta negando la realtà dunque va tutto bene ciascuno ha le proprie opinioni le proprie polemiche le proprie idee è viva è la bellezza del gioco democratico ma poi c'è una cosa più grande di tutti che si chiama Italia e credo che servire la propria patria e servire il proprio paese la propria comunità sia il dono più grande che possa avere una persona che si impegna per la cosa pubblica dunque vi chiedo con il cuore in mano di fare di tutto perché nella logica del servizio per il bene comune che non è il bene di nessuno il bene comune vuol dire che è di tutti prima regola delle discussioni con i bambini ai tempi in cui facevo il sindaco il bene comune non è il bene di chi è il bene comune è di nessuno no è di tutti è esattamente l'opposto per cui io me ne devo far carico penso che sia fondamentale che nella logica di servizio del bene comune tutti noi mettiamo il cuore e l'impegno per essere all'altezza dei sogni dell'Italia grazie magnifico rettore grazie signor sindaco viva Messina viva la Sicilia e viva l'Italia e adesso si procederà alla firma del patto per lo sviluppo della città metropolitana di Messina grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti